Al termine di un incontro tra una delegazione del Comune di Fiumicino e rappresentanti delle sigle sindacali è stato firmato l'accordo per gli scatti salariali dei dipendenti dell'amministrazione. Lo ha annunciato l'assessore al personale Ezio Di Genesio Pagliuca che spiega dopo dieci anni di blocco totale e di sacrifici finalmente si ricomincia a valorizzare le professionalità interne al Comune. Le trattative sono state lunghe ma siamo riusciti a mettere a disposizione le cifre necessarie e a venire incontro alle richieste dei sindacati. Ripristineremo la continuità degli scatti e ciò permetterà a coloro che non riusciranno a rientrare in questa tornata di farlo nella prossima anche in considerazione dell'applicazione del contratto collettivo nazionale. Prosegue l'assessore che conclude L'obiettivo è migliorare la qualità del lavoro e la condizione degli stessi dipendenti. Questo ulteriore passo insieme alle assunzioni delle maestre delle scuole materne comunali va nella direzione di rendere sempre più efficiente la gestione della cosa pubblica e i servizi destinati ai cittadini.